Ciao a tutti, Dante Prima Cinema, ecco il teaser trailer di Natale in Sudafrica, a dopo per le news di oggi. Sì, ma potevi avvisarmi? Non è possibile. C'è tuo fratello? Giorgio! Carlo! Io mi chiedevo che cosa ci fa una bella ragazza come lei tutta sola in Sudafrica. Sono un solo, ragazzo. Ma non è che adesso per dare la caccia alla gnocca finisce che la caccia caccia? Senti questo! Ora, mentre lei la cerca la farfalla, a noi si spara tutto quello e si muove. E' ufficiale, è iniziato il periodo dei cinepanettoni. E ovviamente non poteva mancare all'appello Neri Parenti, che con il suo Natale in Sudafrica sfaderà un cast invidiabile. Cristian De Sica, Max Tortora, Massimo Ghini, Serena Autieri e per la prima volta sul grande schermo Belen Rodriguez. Il film uscirà nei nostri cinema venerdì 17 dicembre. Continuano le indiscrezioni riguardo al cast di Una Notte da Leoni 2. Titolo originale, Hangover Part 2. La partecipazione di Mel Gibson è stata prontamente smentita, a causa del divieto imposto da alcuni attori colleghi. Al suo posto è stato annunciato un cameo di Liam Neeson e la partecipazione di Paul Giamatti. Ora, sembra che addirittura Bill Clinton sia volato in Thailandia per recitare una piccola parte nella folle commedia. E per oggi è tutto. Arrivederci, d'Anteprima Cinema. Grazie a tutti.